Teramo e Re Canatese si annullano in un abullico 0-0, un punto per parte, utile forse di più i Leopardiani che e Biancorossi che perdono terreno sulla capolista San Benedettese, prossima avversaria del Diavolo. Dopo il calcio d'avvio nella prima mezz'ora la gara non conosce Sussulti con le due squadre che si finiscono per annullare, basti pensare che questa è la prima azione che annotiamo nei nostri taccuini con D'Angelo che dalla distanza non crea problemi a Di Giorgio. La risposta del Diavolo tra i giri di lancette dopo porta la firma di De Gidio che trova i guantonini del bello, i Biancorossi alzano i giri del motore, pregevole Galesio di petto Messori non riesce a finalizzare. Dopo un soporifero primo tempo con le immagini di Angelo, Luca, Porcelli ci immergiamo nella ripresa. De Gidio dopo una ribattuta cecchina all'estremo ospite salvato dall'incrocio dei pali, ugual Copione recita la conclusione balistica di Alfieri che si stampa sulla traversa a Di Giorgio Battuto. Da palla inattiva a nuovo squillo abruzzese, Pavone dipinge incornata di Galesio a millimetri dal palo destro. Al minuto 66 azioni da Moviola, Pavone salta un avversario e viene fermato reclamando la massima punizione dal calcio franco seguente del bello di Sinnesca, la conclusione di Pietrantonio. Cresce l'undici di mister Marco Pomante, dai 30 metri il neo entrato, Bounfall Spinner prende la mira. L'area canatese si salva nel più classico dei corner, dalla parte opposta D'Angelo con un bisturi apre in due la retroguardia avversaria ma in spaccata Canoni ci spreca. Il match continua con poche emozioni, al minuto 83 dalla sinistra Arcobaleno di Cum, Galesio Spizza senza centrare il bersaglio grosso. Nel finale il Teramo chiede un secondo calcio di rigore ma Bissolo di Legnago segnala un tocco di mani della punta argentina. Non succede più nulla con il Diavolo che ci prova con tutte le sue forze nei sette minuti di recupero senza però perforare l'attenta difesa marchigiana.